Allora eccoci, proviamo a fare questa texturizzazione speciale con lo shining facciamolo con l'esempio più semplice possibile quindi cancelliamo il cubo, quindi tasto destro, cancelliamo il cubo ecco, al posto del cubo inseriamo la figura più semplice possibile per esempio un piano ora su questo piano vogliamo proiettare un'immagine e questo lo facciamo nei modi che già conosciamo quindi la prima cosa molto semplice gli facciamo una UV map di un piano è una cosa molto semplice, basta andare in edit mode e poi facciamo anche solo il reset che è l'UV mappatura più semplice che esista quindi tutto il piano corrisponde a questa immagine ora su questo piano proiettiamo apriamo un'immagine e in particolare l'immagine che apriamo sarà ok, prendiamo questa immagine di questa rosa che è abbastanza carina quindi vedete che abbiamo la rosa che viene visualizzata su questo piano per vedere la rosa visualizzata abbiamo vari strumenti di cui uno dei quelli considerati più completi anche se c'è mettiamo anche il screencast start display così vedete i tasti che premiamo dunque mettiamo la visualizzazione con ah, dove è qua? display e diciamo GLSL e poi texture solid vedete che abbiamo la visualizzazione della nostra rosa ora vogliamo fare una visualizzazione che includa anche diciamo il fattore speculare quindi per ottenere da questa immagine piatta un po' di ombre di luci e di effetti legati a quindi a queste cose una delle tecniche più semplici è quella di produrre di farla in rilievo quindi fare una specie di basso rilievo di questa rosa e questo lo possiamo ottenere aggiungendo un materiale che usi l'immagine per modificare la geometria questo lo facciamo andando qua sul nostro materiale creiamo uno slot con un materiale nuovo e su questo materiale gli associamo abbiamo già in realtà la texture che è Imager Movie e gli mettiamo la nostra rosa questa ricordiamoci che nel mapping qui deve essere UV e usare l'UV Map di default e per ottenere l'effetto rilievo che ci permetterà di aggiungere una dimensione un po' tridimensionale andiamo qui a cliccare l'escritto geometria ora facendo questo non si vede in realtà un effetto diretto perché il GLSL non ci fa la resa per vederlo dobbiamo abilitare la visualizzazione rendered eccola qua vedete che abbiamo un vabbè qui è un po' esagerato vedete che l'immagine viene praticamente viene un po' tridimensionalizzata automaticamente da Blender ottenendo questi effetti qui è esagerato quindi l'incremento 1.0 della geometria lo riduciamo un po' mettiamo 0.5 0.5 si ottiene già un effetto interessante è già sufficiente forse in questo caso potrebbe stare anche un po' di meno ancora 0.2 qui si vede un effetto diciamo di leggero embossing ora qui la cosa ideale sarebbe avere una luce messa un pochino più diretta quindi bisogna muovere un po' le luci e per farlo torniamo in modalità solida qua andiamo a cercare la nostra luce questa quindi dobbiamo essere in object mode luce facciamo in modo tale che la luce sia di una tipologia direzionata quindi EMI ok vedete che punta direttamente andiamo di nuovo a vedere se ok in questo caso forse è perfino eccessiva nel senso che riflette perfino troppo ma il concetto comunque è che possiamo muovere o ridurre la luce quindi magari facciamola anche nel senso che oppure teniamo quella di prima tanto l'idea era solo quella di vedere come come operare quindi questa luce qua che questa ma possiamo anche ridurre l'intensità quindi 0 3 mettiamo facciamo una foto f12 non si vede un gran che vediamo il rendering di qua ok comunque si capisce insomma l'effetto anche se non è proprio il massimo voluto a seconda di come muoviamo questa luce vedete che le ombre cambiano quindi questa luce in particolare possiamo per dire girarla renderla in maniera tale che sia un po' più laterale e a questo punto l'effetto 12 questo non ci dice un gran che ma il rendering vedete che c'è un rendering che è un pochino più realistico comunque si capisce che è un po' di rilievo questo effetto in rilievo in realtà lo possiamo ottenere facendo quello che si chiama il baking della foto quindi dobbiamo per fare il baking dobbiamo essere in modalità tipo solid questa selezioniamo il nostro piano andiamo in edit mode dobbiamo aprire una nuova immagine quindi in edit mode apriamo una nuova immagine new image in cui facciamo il baking baking bake facciamo chiamiamolo anche togliamo l'alpha e vabbè teniamoci il bianco giusto per vederlo bianco ok e vedete che questo questo è il il nostro piano insomma che c'ha questo baking quindi il nostro obiettivo è quello di fare il baking qua sopra della rosa il che detto così se noi facessimo semplicemente il baking cioè andassimo a qua e andassimo a fare il bake full render bake ecco quello che otterremo in realtà tab è una specie di clone di quello di prima ma non vediamo perfettamente gli aspetti diciamo legati ai riflessi qui il baking il full render rende anche le luci presenti se no il baking solo delle texture in questo caso prende solo la texture con cui è stato creato che è quella originale vedete che è restata soltanto un po' scurita col full render perché c'è poca luce messa in quel modo ma non ci sono gli effetti diciamo legati all'illuminazione cioè nel senso ai riflessi quindi per ottenere questi effetti bisogna intervenire su quello che sono appunto i nodi allora per lavorare sui nodi andiamo qua nel pezzo compositing qui abbiamo avendo selezionato ovviamente il nostro piano andiamo nella parte del materiale use nodes qui facciamo ctrl freccia in alto per vedermi i miei nodi e qui il trucco è semplicemente di miscelare vedete che qui praticamente visualizza soltanto la parte relativa al colore quindi praticamente quello che viene prodotto è semplicemente questo però è soltanto la parte di colore mentre invece io vorrei generare anche la parte relativa allo speculare per fare ciò devo cancellare questo nodo che non mi interessa e aggiungere un nodo esteso il nodo esteso vedete che ha sì il colore che è questo collego al materiale questo però vogliamo aggiungere anche la parte di speculare quindi abbiamo aggiungere e miscelare queste due parti e questo lo si fa semplicemente aggiungendo un mix color mix che mettiamo qua in mezzo vedete che genera praticamente un mix fra questo colore e poi la parte speculare ok allora facendo in questo modo si aggiunge anche l'effetto riflesso quindi facendo adesso ctrl faccio in giù per tornare alla mia immagine questa avevamo vedete questo era il bake creiamo andiamo in edit mode questo e facciamo un secondo bake quindi facciamo una seconda immagine new image la chiamiamo bake spec perché vogliamo farci anche l'aspetto speculare quindi qui togliamo l'alpha ok qua dentro a questo punto avendo fatto i nodi qui ci troviamo il baking e sul baking possiamo fare il bake full render vedete che ci impiega un po' di più di tempo e non so se notate ma questa immagine è diversa della precedente questa è la bake specular mentre l'immagine precedente era bake questa vedete questa era solo un po' scura c'era un pochino di tridimensionalità ma non era non era quella che vogliamo ottenere noi invece bake specular questa vedete che ha proprio questo impianto fatto in questo modo quindi abbiamo ottenuto un'immagine del piano che è molto più vivida rispetto a quella precedente a questo punto